Ma che ci fate voi qui? Io sto prendendo il mio decaldo e mi sono appena scordata. E ho un sogno. Che volete una storia di Natale? Ma io voglio prendere il mio decaldo in santa pace. E va bene, solo una però per favore. Vi leggerò una storia da questa bellissima raccolta. Vediamo un po' che cosa possiamo scegliere. Il leone, l'unicorno e io. Prima che accadesse, un angelo mise in fila tutti gli animali. Tutti quanti, di ogni specie. Perché questo angelo aveva la lista completa. La stessa dei tempi dell'arca. La maggior parte fu eliminata subito. Ragni, scimmie, orsi, balene, trichechi e serpenti. Ben presto fu chiaro che per essere qualificati erano indispensabili i quattro zampe che calcassero la terra contemporaneamente. Si apriva una competizione seria. Cavalli, tigri, un cervo con corna che si ramificavano in una foresta ignota. Una zebra dipinta di bianco e di nero come una disputa infinita. L'elefante poteva reggere il mondo sul dorso. Cani e gatti erano troppo piccoli e l'ippopotamo troppo capriccioso. C'era una giraffa con dei graffiti a mosaico. Il cammello era desiderato altrove, al pari del bestiame. Passo il tempo e rimanemmo in tre. Il leone, l'unicorno e io. Il leone parlò per primo. Posizione attuale, re della giungla. Carriera, ho lavorato con Ercole e Sansone e anche con Daniele nella fossa dei leoni. Punti di forza, forza. Debolezze, nessuna che si sappia. L'angelo prese nota. Poi parlò l'unicorno. Posizione attuale, animale mitico. Carriera, in ebraico sono Rehem, la creatura che non può essere domata. Punti di forza, notoriamente mansueto con le vergini. Debolezze, la tendenza a scomparire. L'angelo prese nota. Venne il mio turno. Farò la figura del somaro, sussurro il leone. Aveva ragione, sono un asino infatti. Un asino vero e proprio. Posizione attuale, ultimo degli asini. Punti di forza, posso trasportare qualunque cosa, dovunque. Debolezze, non bello, non ben educato, non importante, non intelligente. Mai considerato, mai vinto un premio. L'angelo prese nota, diligentemente. Poi ci propose uno spareggio. Potevamo dire una frase, perché eravamo adatti a quel lavoro. Il leone parlò per primo. Se egli è destinato a essere il re del mondo e il re degli animali, che dovrebbe trasportarlo. L'unicorno disse, se egli deve essere il mistero del mondo, è la più misteriosa fra le creature che dovrebbe trasportarlo. Io dissi, beh, se egli dovrà sopportare il peso del mondo, è meglio che sia trasportato da me. E fu così che mi trovai a camminare lungo la strada sotto gli zoccoli, il deserto rosso, sopra la testa, il cielo disteso come un drappo nero, e in groppa una donna stanca, il capochino nel sonno, diretto nella piccola città di Bethlehem. Oh, ma quella era un pasticcio di città, ammuffita, rugginosa, stantia, messa in mostra per l'occasione. Gli abitanti cociuti e spacconi, impegnati a vendere e comprare, fintando che si potevano fare affari e c'erano merci a disposizione. Erano tutti lì per pagare le tasse, e tutti dovevano trovare un letto per quella notte, perciò perfino i topi davano in affitto le loro tane. E c'erano viaggiatori che penzolavano dei nidi degli uccelli, con rametti e vermi rinsecchiti tra i peli della barba. E i formicai erano al completo, e gli alveari ospitavano tre famiglie ognuno, e c'era un uomo che batteva colpi sulla superficie gelata del lago, chiedendo ai pesci di lasciarlo entrare, e ogni letto e ogni spazio sotto i letti, e ogni sedia e cuscino o tende e tappeto, e ogni sporgenza, ogni cantuccio, scaffale, nicchia, apertura, rastregliera, dispensa a carro, erano ghermiti di braccia e gente che sbucavano da ogni parte. Quando arrivamo dalla locanda, c'erano ai due lati dell'uscio due grandi vasi vuoti. Essendo un asino, ficcai la testa in uno dei due per vedere se ci fosse qualcosa da mangiare. Subito una faccia inspira spuntò dal vaso, e il proprietario della faccia ci avvertì che la locanda era così affollata che lui e suo fratello avevano dovuto sradicare gli olivi da un lato e dall'altro del portico. E in effetti ecco il fratello, la testa come un melone, lo sguardo torvo nell'altro vaso vuoto. Giuseppe, il mio padrone, era un ottimista. Busso alla porta. L'ospite aprì, e il ragazzo che dormiva nella cassetta delle lettere cadde per terra. Non c'è posto, disse l'oste. Neppure per mia moglie stanotte darà alla luce un figlio. E allora lo farà il chiaro delle stelle, disse l'oste, accingendosi a chiudere la porta. Giuseppe la tenne aperta con un piede. Sentite, disse l'oste. Credete che io scherzi? E indicò un punto in alto tra le travi del soffitto, dove cinque ragni fissavano copamente sei neonati adagiati nelle amache fatte dai loro padri annodando le ragnatele. Giuseppe annui e fece per andarsene, ma lo sediste. Provate a girare qua dietro dove ci sono le stalle e vedete se riuscite a trovare un giaciglio. Quella notte gli animali sapevano che stava per accadere qualcosa di insolito, perché gli animali sanno sempre quando sta per accadere qualcosa di insolito. Stavano già bisbigliando tra loro. Il bue aveva visto una stella che splendeva sempre più luminosa e il cammello aveva ricevuto un messaggio da suo fratello, che era al servizio di un sovrano. Quella notte dei re sarebbero arrivati a Betlemme. Maria, Giuseppe e io ci aprimmo un barco in una stalla affollata. C'era un odore dolce di letame tiepido e di fieno secco. Io avevo fame. Subito Giuseppe ammucchiò un po' di paglia e vissese sopra una coperta che tolse dalla bisaccia della sella. Poi uscì per riempire al pozzo la sua borraccia e poiché era un uomo di buon cuore portò acqua fresca anche per gli animali accaldati, ammassati lì dentro. Maria fu contenta del calore degli animali e per un po' dormì. Quando fui liberato dalla sella e dagli altri paesi, Giuseppe mi portò fuori nel cortile a consumare la mia cena. L'aria era fredda e tagliente, le stelle lucenti come campane. Nel profondo cielo nero era intagliato uno spicchio di luna nuova e i campi, al di là della città, erano visibili come un sogno visibile al dormiente, ma non a chi è sveglio. Qualcosa accadrà stanotte, disse il bue. Lo sento nelle spalle. L'ho fiuto, disse il cane. Mi fa fremere i baffi, disse il gatto. Il cavallo dirizzò le orecchie e alzò la testa. Io continuo a mangiare perché avevo fame. Mentre mangiavo, come solo una cena non può mangiare, vidi una luce lampeggiare tra i miei zoccoli e improvvisamente le zolle di luce grigia che circondavano la stalla, rivoltate, calpestate e gelate, diventarono luminose. Guarda in su. Il retro della locanda era cadente e scuro, ma la stalla risplendeva. Due creature in vesti scintillanti si erano posate sulle tegole sconnesse del tetto, i piedi lindi e nudi, i capelli fluenti come un rapido fiume e ognuno portava a tracolla una lunga tromba. Sopra di loro c'era una stella. Una delle punte era così vicina che pensai potesse tagliare il tetto in due e incunearsi come un raggio lucente fra le travi di legno, mangiate dai tarli. E così stalla e stella sarebbero diventate una cosa sola, fiene le tame e un altro mondo. Ci fu un gran trambusto e tre cammelli, ingioiellati e ben strigliati, fecero la loro comparsa nel cortile. A un comando i cammelli si chinarono e si piegarono sulle ginocchia e i re che li cavalcavano tolsero dagli involti ognuno un prezioso cofanetto di grande valore. Tra tutta quella luce e quel movimento io entrai in silenzio dalla porticina della stalla e mi insinuai tra gli altri animali per avvicinarmi a Giuseppe che era in ginocchia accanto a Maria. Lei si leggeva su braccia e gambe, su quattro arti, come noi. Si udì uno scorrere come d'acqua e un grido come di essere vivo. Ed era vita, era sangue, materia, liquidi e vapore nel freddo, come il nostro respiro. E c'era il bambino, il viso raggrinzito, gli occhi chiusi, la mano di Giuseppe più grande della sua minuscola schiena. Ed improvviso si udì lo squillo delle trombe. E la facciata della stalla crollò di schianto. Alzai lo sguardo e vidi che i piedi degli angeli penzolavano dal tetto cadente e le loro figure erette si stagliavano sul crinale del tetto, annunziando un principio e una fine. Non so che parole usare, ma il principio e la fine ruotarono sugli stessi cardini e si ripiegarono l'uno sull'altra come imposte di una finestra come ali d'angelo. Rovesciai la testa all'indietro e ragliai, ragliai più forti che potei all'unisimo con le trombe. Spinzi il muso così in alto e il tetto era così basso che il piede di un angelo mi sfiorò mentre cantavo. I re entrarono, anche se non c'era più un interno. Ora che la stalla era aperta, il passato e il futuro rumoreggiavano come vento, e sopra di noi stava l'eternità, come gli angeli, come la stella. I re si ingirocchiano e uno di loro, il più giovane, pianse. Poi quattro pastori, vestiti di pelli di pecora, con addosso l'odore di sterco di pecora, arrivarono con un brodo di montone. Lo versarono in scodelle di legno a Giuseppe lo di Dammaria, che si appoggiava a lui, riparando il bambino sotto il suo mantello. E il corpo del bambino trasmetteva luce al corpo di lei, cosicché, pur a confronto con l'oro degli angeli e con l'argento di tutte le stelle del cielo, il bambino splendeva di più. Giuseppe e Maria lo lavarono, lo fasciarono, lo deposero nella mangiatoia. A una certa ora della notte, il leone entrò a passi felpati e chinò la testa. A una certa ora della notte, attraverso la fessura di una parete, non più grande di un pensiero, l'unicorno tocca il bambino col suo corno. Venne il mattino, un mattino di stiramenti, sbadigli, annusate, sbuffi, tramestii, trottai fino all'ingresso della locanda e vidi due tipi dalle teste di melone e dall'aria torba, seduti sui loro vasi ai lati del portico, che bevevano un caffè denso da tazze di latta. Guarda il muso di quell'asino, disse uno. Che cosa avrà mangiato, disse l'altro. Io, strabuzzando gli occhi, cercai di spingere lo sguardo lungo il vellutato cilindro del mio muso, ma non vidi niente di strano. Tutti intorno la città si svegliava, mercanti e mandriani, cammellieri e banchieri, e una notizia veniva sussurrata. Stava accadendo qualcosa di prodigioso. L'oste uscì dalla locanda, fu il primo a diffondere la notizia. Re Erode si sarebbe recato a Betlemme. Che onore, un omaggio alla nostra città. Doveva essere questo il significato della stella e del portento di cui l'ubriacone, ora addormentato nel barile, divino vuoto, andava ciarlando. C'erano degli angeli sul tetto della stella, avevano detto. L'oste mi guardò. Che cosa hai fatto al muso? I tre re erano ripartiti prima dell'alba. Un sogno concitato li aveva avvertiti che dovevano ritornare per un'altra strada. Avevo visto i loro cammelli avanzare come note musicali nei campi dove i pastoreggi accendevano i loro fuochi mattutini. Non rimaneva nulla della notte appena passata, se non tre cofanetti dal contenuto prezioso. Una breccia nel tetto, laddove gli angeli avevano dondolato i piedi sull'orlo del tempo, e la porta scardinata della stalla. Giuseppe pagò il danno alla porta con l'oro preso da uno dei loro cofanetti. Mostrò il bambino all'oste e insieme commentarono l'apparizione della stella Oriente. E l'oste espose le proprie opinioni, vantando la venuta di Erode e dicendo sciocchezze sugli angeli. Poi io, trotterellando, girei l'angolo, il muso protesi in avanti. Beh, incredibile, disse Giuseppe. La verità è che, quando il piede dell'angelo mi si era posato sul muso mentre ragliavo, il mio muso era diventato d'oro come una tromba che annunci un altro mondo. Non aspettammo, Erode, ci mettemmo in viaggio per l'Egitto, senza dire a nessuno dove eravamo diretti. E io portai in groppa Maria e il bambino per giorni e notti, fino alla salvezza. A volte, quando il cielo è freddo e limpido, e io ho finito il mio lavoro quotidiano, e me ne sto a mezzo sveglio e mezzo dormentato nel tepore della mia stalla, mi sembra di vedere la campana di una tromba e il suo lungo tubo. E poi un piede lindo e bianco che dondola sopra il crinale delle stelle. E allora faccio sentire la mia voce e raglio, raglio forte, per ricordare, per celebrare, per ammonire, per la buona sorte, per tutto ciò che è qua giù e tutto ciò che è nascosto altrove. Fieno e letame è un altro mondo. Vi è piaciuta la storia? A me tantissimo. Questa raccolta è davvero bellissima. Noi ci vediamo qui per una prossima storia e un prossimo racconto. Però adesso fatemi finire il mio te che si raffredda. Che bel calduccio. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima storia. Ciao. Ciao.